Eccoci invece al capitolo degli armonici artificiali, abbiamo visto come si eseguono e dove si trovano quelli naturali, facciamo una piccola premessa dicendo che esattamente al dodicesimo tasto, quindi sulla barretta, o comunque in corrispondenza al dodicesimo tasto per chi suona fretless, abbiamo esattamente il punto centrale della nostra corda, cioè a metà tra il capotasto e la selletta del ponte. Quindi abbiamo l'armonico che è un'ottava sopra alla corda a vuoto. Detto questo, noi possiamo sostituire il capotasto con un capotasto immaginario e andare ad accorciare la lunghezza della corda, ovvero il diapason, del nostro strumento. Questo ci consente non solo di avere le stesse note ad ottave superiori, ma anche di avere tutte le note, perché io posso mettere il capotasto dove voglio, sulla nota che voglio, come se smontassi, oppure come fanno i chitarristi con il capotasto mobile. Quindi la tecnica, io conosco principalmente due tecniche per far uscire gli armonici artificiali, ne esistono altre, ma non sto qui a elencarle, anche perché non ne sarei capace. Dunque, la prima tecnica che conosco io è quella in cui, con il dito della mano sinistra, ora io uso l'indice, vado a creare appunto il capotasto, tra virgolette, immaginario, e con la parte esterna del pollice, quella che voi usate per lo slap, perché non lo so fare, esattamente con quella parte lì, io creo il punto centrale tra il capotasto e la selletta e avrò l'armonico all'ottava della nota premuta. Seguendo questo principio e questo ragionamento, se mi sposto ancora più vicino al ponte, avrò delle ottave sempre più alte. Per far uscire la nota, si appoggia delicatamente, innanzitutto si trova i punti giusti, e questo ci vuole pratica e esercizio. Una volta trovati i punti dove l'armonico esce bene, si appoggia appunto questa parte del pollice sulla corda, leggermente a una distanza che troverete da soli rispetto all'indice o al medio, io utilizzo l'indice per pizzicare, e appunto con l'altro dito pizzico la corda normalmente, ovviamente staccandola immediatamente appena fatta uscire la nota. Più mi avvicino al ponte, e più l'altezza della nota sarà maggiore. Un esempio L'altra tecnica che conosco consiste nel usare due dita della mano sinistra, e con una io premo una determinata nota, e con il mignolo a distanza di due toni, quindi quattro tasti, quattro semitoni, vado a sfiorare la corda come faccio con gli armonici naturali, mentre con l'indice la premo proprio, e questo mi dà la possibilità, ancora una volta, di suonare tutte le note. Cosa succede? Che io, se devo suonare, ad esempio, un sol diesis, metto l'indice, quindi una terza sotto, in questo caso in Mi, Mi sulla corda di Re, premo, e con il mignolo vado a sfiorare, qui richiede una bella estensione, il punto esatto dove si trova l'armonico di sol diesis. Questo mi permette, appunto, di avere anche quelle note che, come nell'esempio di Portrait of Tracy, scusate la pronuncia, ma non è mio forte, è quando Giacomo suona un armonico di Re diesis, utilizzando, appunto, questa tecnica. e nel finale del brano, dove addirittura lui suona tre note contemporaneamente, però non mi verranno mai, che poi, comunque, suona dal nonno tasto al tredicesimo con il mignolo. Troverete tanto, molti esercizi, da quale potete prendere spunto, per poi crearvi, anche qui, delle melodie, ma come ha fatto lui, appunto, per Birdland o altro. Creare degli abbellimenti, ma anche proprio dei brani interi, nulla vi vieta di farlo, anzi, si possono trovare con gli armonici delle sonorità, molto diverse da quelle siamo abituati ad ascoltare con il basso, e questo può essere un grande modo per esplorare altri mondi, insomma. Spero di avervi detto tutto, e ci vediamo al prossimo capitolo. Grazie. Grazie. Grazie.